Voglio vivere è un libro scritto dal giornalista Mauro Molinaroli e dal dottor Cavana, primario di oncologia del ospedale di Piacenza. Un libro il cui ricavato andrà devoluto alla ricerca scientifica. La malattia emerge da questo libro, non riguarda solo il corpo, ma anche la mente, l'anima, lo spirito. Sì, questa è una malattia traumatica, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista psicologico. Tant'è che il ruolo di una figura di sostegno per quanto riguarda l'aspetto psicoterapeutico è fondamentale. Tenendo conto del fatto che scientificamente è stato provato che la scoperta di avere un cancro è simile a quando avviene una scossa sismica e tu resti senza casa o senza nulla. Quindi ci sono psicologi che sono esperti in traumatologia che si occupano proprio di questi aspetti perché la botta psicologica è talmente devastante che è opportuno fare ricorso a questo tipo di figure.